Lì sopra! Dobbiamo salire lassù. Perché qualcuno dovrebbe scalare questa roccia? Deve essere molto sconvolta. Il marito è morto e lei non è sconvolta. L'hai vista ridere? Mi dispiace moltissimo. Sono stata io a farmelo. Dopo che si è fatta del male, lui ha capito. Finalmente sì. Finalmente sì. Hanno trovato il DNA di qualcun altro sotto le unghie di Kido Su. Portami il cuore di quell'uomo. Voglio la testa di quella specie di detective. Finalmente sta piangendo. Non parlare così dei momenti che abbiamo vissuto. Quali momenti? Quelli che ho passato davanti a casa tua ogni notte. Io ho pensato a te. Sono davvero così ingenuo. E io sono davvero così malvaga. Tagliare le conti. Grazie a tutti.